C'è il sapore amaro della sconfitta di Udine nel risveglio dei viola, ma d'altro canto c'è anche la voglia di ripartire subito e l'occasione è ghiotta. Mercoledì sera in Coppa Italia, la Roma al Franchi per passare il turno e approdare alle semifinali. Tanta voglia dunque di trovare nuovamente il passo giusto dopo le due sconfitte del 2013, assolutamente ingiuste dal punto di vista del gioco espresso sul campo e delle occasioni da gol, ma purtroppo particolarmente vere per quello che riguarda la classifica. La squadra si è divisa in gruppi lavorando oggi tra palestra e campo, da un lato il defaticante per chi è stato schierato come titolare nella sfida del Friuli, dall'altro il resto del gruppo. Per domani allenamento previsto nel pomeriggio all'interno dello Stadio Franchi per testare il campo che sarà poi teatro del quarto di finale di Coppa Italia. Ricordiamo gara secca per l'accesso alle semifinali. Grazie per l'accesso alle semifinali.